La polizia di Stato ha arrestato un 32enne di battipaglia perché è ritenuto responsabile insieme ad un 49enne albanese della morte di un uomo di origini rumene, deceduto a seguito di un'aggressione avvenuta lo scorso 6 ottobre in un bar di Bologna, dopo aver provato a sedare una discussione fra i due ed un amico. L'uomo sarebbe stato prima picchiato all'interno del locale e poi fuori, dove in seguito dai due sarebbe stato pestato violentemente. La vittima, trasportata all'ospedale maggiore di Bologna, è morta un mese dopo. Le indagini hanno permesso di ricostruire tutti i passaggi dell'omicidio e di raccogliere elementi utili per l'emissione da parte della Procura della Repubblica di Bologna del fermo di indiziato di delitto nei confronti dei due aggressori, che ieri sera, al termine degli interrogatori di garanzia, hanno ammesso le loro responsabilità e sono stati condotti nel carcere della Dozza.